Sarà un rito di Venezia come sempre sorvigliato speciale, con una massiccia presenza di forze dell'ordine per un servizio costante e continuo, ma sempre in segno della massima discrezione, quello che accoglierà, tra pochi giorni, la 81esima molto internazionale d'arte cinematografica di Venezia, già dal giorno della sua preapertura, martedì 27 agosto, vigilia dell'inaugurazione, fino a sabato 7 settembre, serata di chiusura e premiazione, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza si è riunito nella sede di Cacornera Venezia e ha affrontato le varie linee guida del piano, e sarà proprio la prefettura, con il prefetto D'Arco Perlos, ad avere in mano la regia e il coordinamento del delicato piano, con una partecipazione interforze di tutte le forze dell'Ordine. L'area della cittadaria del cinema sarà presiedata 24 ore su 24, con banchi di accesso e interamente pedonare il lungomare Marconi nel tratto tra Via Angelo Emo e Via delle Quattro Fontane. Anche dal cielo, come l'anno scorso, ci saranno riprese, girate poi alla Smart Control Room del Tronchetto per eventuali opportuni controlli. Per ragioni di sicurezza sarà interdetto anche il traffico acqua, salvo ai mezzi autorizzati nell'area della cittadaria del cinema. Così il Lido si prepara ad accogliere i divi, ma anche i loro tanti fans e ospiti.